Quando si è vecchio, grazie alla pensione, si è necessario per qualche persona. A fine mese ha diventato parente e per 30 giorni non si è più niente. Non può essere parente, se non tiene niente, passano e panno come fosse niente. Con il figlio fatente, per la moglie o l'espizia, che una mamma o il padre rende l'espizia. La vicciaia è dolce quando sta in pace, ma da balena si non tiene a nessuno. Ogni mattina ti fa male qualcosa, il coscio e il rino e non si riposa. Se vai al dottore, ci vanno i giorni, perché i malati è già vecchi, sono sempre avverici. Ma non c'è vicciaio, ma non ecco il guaio, se non ci arriva, non lo capisce mai. Amati voi e fallo col cuore. Amati voi e fallo col cuore, non lo limitate, ma state d'accordo e non lo fidate. La fiducia è una cosa che si addarra, ma chi ha avuto se l'ha da stendere. Avete ci insegna che la fiducia è carogna, e quando ti sbagli, soffre pariccia. Perciò guarda che fai e accorta a chiaraia. Certi sono persone e tu non lo vedi.